Allora Manuel, sembrava un miraggio quello di fare il Giro d'Italia inizio febbraio, dopo la caduta, invece con qualche difficoltà riusciamo a essere a Bologna con quale ambizioni e con quale animo ti muovi per questo quarto Giro d'Italia? Ma sì, adesso febbraio, dopo l'incidente era veramente dura pensare di tornare in forma così alla svelta, adesso ho fatto le prime corse e spero di recuperare bene, di crescere per arrivare al Giro d'Italia al meglio, non so ancora quale potrà essere la mia condizione però speriamo di crescere giorno dopo giorno. Hai guardato comunque qualche tappa nella seconda parte che insomma ti stimola e magari nella tua testa è già lì un po' nel mirino, chiaramente con la condizione che si può ritrovare durante il Giro? Sì, adesso nelle prime dieci tappe sicuramente ci sarà un pochino da soffrire, poi dopo ho visto le ultime sono tutte dure, sicuramente lì bisognerà provare in più tappe a vedere di rimediare un'occasione buona e poi sarà quella che sarà però il Giro nell'ultima parte quest'anno è veramente duro quindi penso se la gamba è buona ci possono essere più chance. Grazie